A Gela c'è voglia di destra, una destra che deve contrapporsi alla disamministrazione della sinistra di questi anni e che non ha alcuna intenzione di fare sconti alla giunta che guida il palazzo di città. Parole chiare che sono state esternate sabato scorso in occasione dell'inaugurazione della sezione Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, il partito politico che fa capo a Giorgia Meloni. La sezione che sorge in corso Vittorio Emanuele è stata intitolata a Giorgio Almirante. Mi rifiuto di credere che a Gela tutti sono di sinistra, non è vero niente, a Gela c'è una grande maggioranza che guarda con simpatia verso la destra e con questa apertura della sezione di Fratelli d'Italia sicuramente oltre le 50 adesioni avuto finora e in poco tempo ce ne saranno sicuramente delle altre. Dove sono tutti gli uomini di destra? Gli uomini di destra ci sono e loro sono timidi, sono timidi, sai un pochino, ma ti assicuro che a piccoli passi verranno fuori. Siamo particolarmente contenti per il fatto che oggi questa sezione viene aperta qui a Gela grazie all'amico Gettano Minardi che attraverso il suo impegno ha coinvolto delle persone che sono veramente importanti e che sicuramente ci daranno delle belle soddisfazioni su tutta la città di Gela che è una città fondamentale per la provincia di Caltanissetti. E finalmente anche a Gela abbiamo la nostra casa. Abbiamo voluto aprire questa sede, siamo riusciti grazie ai nostri dirigenti comunali, di aprire questa bellissima sede tra l'altro centrale perché vogliamo dare una casa agli uomini di destra. Stiamo cercando di aprire queste sedi in tutta la Sicilia, ne abbiamo appena aperte quattro a Catania, oggi a Prama Gela, abbiamo aperto a Palermo e così continuiamo. Perché vogliamo stare tra la gente, in mezzo alla gente, per sentire i problemi della gente e cercare nel nostro piccolo delle soluzioni concrete a questi problemi. Tra i presenti sabato scorso anche Damiano Lauretta, candidato sindaco nel 1994. Noi ci siamo accorti che il territorio ha bisogno di una vera destra, oggi non c'è una destra. Noi siamo la destra, siamo stati un po' il letargo, ma abbiamo capito che era il tempo di tornare di nuovo tra la gente, farci sentire anche perché non abbiamo niente di cui vergognarci. Di quanto ci possiamo presentare con i nostri volti, con le nostre facce, con le nostre parole, come abbiamo sempre fatto. Siamo stati da parte nella speranza che qualcuno sapesse fare di meglio. Purtroppo, devo dire, purtroppo non è stato così. L'AIRC arriva all'interno della struttura penitenziaria di Gela per lasciare quale messaggio? È la prima volta che entriamo in una struttura del genere e con noi l'oncologo volontario dell'AIRC, il dottor Dagati, verrà a portare un programma di educazione alla salute sempre adeguato a questa struttura e agli ospiti e ai detenuti della casa circondariale. È molto importante, prevenzione significa in tutte le sfere a 360 gradi. Lasciare un messaggio di prevenzione e detenuti rappresenta anche un momento di riflessione per loro importante. Per la prima volta che entriamo in una casa circondariale, nel progetto AIRC nelle scuole, si sposta nelle carceri proprio per vedere e sentire quali sono i discorsi e gli effetti della prevenzione. Prevenzione tratteremo oggi sull'alcolismo, sul tabaggismo, ma soprattutto la corretta alimentazione. Nel senso che una volta usciti di qua potrebbero avviare dei percorsi virtuosi di vita, quindi conoscendo quali possono essere le conseguenze di abuso delle sostanze che lei prima menzionava e l'importanza della prevenzione. Sì, è importante la prevenzione anche per l'uso e come diceva lei l'abuso delle sostanze, come per esempio le sostanze stupefacenti, dell'alcol e soprattutto del fumo di sigaretta. Si vede che la maggior parte dei tumori, l'incidenza dei tumori, è data dall'uso eccessivo di sigarette e di alcol, ma è importante soprattutto la corretta alimentazione, che se ne parla ma se ne parla poco e non in maniera corretta dell'alimentazione. Quindi cerchiamo e speriamo di dare questo messaggio grazie all'AIRC che mi ha dato questa opportunità. Comandante, arriva un importante messaggio di prevenzione anche all'interno della casa circondariale. Con quali ricadute secondo lei? Ricadute positive in termini di sicurezza, ricadute positive in termini di immediatezza negli interventi di salute e soprattutto il riconoscimento di un momento storico molto particolare in cui peraltro la sanità penitenziaria sta passando alla sanità pubblica sulla base di un presupposto costituzionale che alla salute va garantita a tutti. Il nostro compito è promuovere tutto ciò che è intorno alla persona, affinché la persona poi possa andare in famiglia e anche lì continuare a buttare il germe della prevenzione. Prevenzione non solo nel campo della salute, prevenzione anche nel campo della legalità, prevenzione nel campo dell'educazione, prevenzione a tutto tono, nel campo anche del saper vivere e utilizzare bene la cosa pubblica. Quindi dare questo senso di come le cose devono essere fatte. Ma come hanno accolto i detenuti l'iniziativa? Positivamente. Si parla della salute, si parla di prevenzione per cui per loro è importantissimo avere la possibilità di interloquire con delle associazioni importanti come l'AIRC su temi sensibili quali l'educazione alla salute. In particolar modo, particolarmente importante è stata la ricaduta sul mondo penitenziario, cioè come tenere uno stile di vita corretto all'interno delle mura penitenziarie. Il concorso è stato bandito poco prima di Natale dal convegno Maria Cristina di Savoia e i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado sono stati impegnati nel disegnare un biglietto di auguri dal tema Natale in famiglia. L'intendo del convegno era quello di far riflettere gli adolescenti che il Natale va vissuto nell'intimità della famiglia, va vissuto nel modello della famiglia di Nazareth per allontanarli un po' dall'idea consumistica che oggi abbiamo del Natale. Più presepe e meno alberi, più amore e meno regali, più serenità e meno discordia. Come hanno accolto l'iniziativa i bambini e su quali basi poi sono state scelte le creazioni migliori? L'iniziativa del convegno di cultura Maria Cristina di Savoia sta avendo grande successo soprattutto perché investe uno degli ambiti più privilegiati che è quello della famiglia che è il tema centrale di quest'anno. I ragazzi hanno accolto favorevolmente anche perché come ha indicato il Presidente, la Presidente hanno cercato di descrivere nei biglietti augurali il significato della famiglia. Certamente sul modello della famiglia di Nazareth ma a noi interessava trasmettere il concetto di famiglia così come il Vangelo ce l'ha consegnato. I criteri sono stati certamente quello dell'estetica ma anche soprattutto quello del significato che i ragazzi hanno voluto addurre al biglietto che hanno voluto realizzare. Certamente è un pretesto per sensibilizzare a una partecipazione attiva dei ragazzi alle tematiche che abbiamo loro proposto e quello di informare sul valore della famiglia che per noi è fondamentale nella nostra società. Cosa hai voluto rappresentare attraverso questo disegno? Innanzitutto l'intimità della famiglia come ha detto la Presidentessa. Volevo diversificarmi dagli altri perché comunque nulla togliere agli altri concorrenti. Mi aspettavo che comunque avessero disegnato presepi e comunque queste cose e quindi volevo disegnare qualcosa di diverso per distinguermi. Comunque tutti gli altri disegni sono bellissimi, non voglio togliere niente da nessuno dicendo queste cose. Che cosa ti ha ispirato? Il tema del concorso comunque è molto significativo quindi mi è venuto fuori così nulla di... A chi dedichi questo premio? Alla mia famiglia e a tutti coloro che mi hanno appoggiato. Gela è una città che stupisce il mondo per la quantità dei suoi reperti archeologici sempre di grande bellezza. Parole e musica del critico d'arte Vittorio Sgarbi durante un incontro avuto con il sindaco Domenico Messinese. Il primo cittadino si è detto d'accordo con il noto critico d'arte sulla necessità di far conoscere ad una più ampia platea il patrimonio monumentale, artistica e culturale di Gela. Bisogna prendere dieci opere importanti e portarle a Milano, ha suggerito Sgarbi, per far sì che il nome della città entri in un grande circuito e faccia capire che Gela merita di essere visitata. All'incontro hanno preso parte anche gli assessori comunali Fabrizio Morello e Francesco Salinitro. Tra gli argomenti si è discusso anche di politica. Sgarbi ha ricordato il suo impegno a Gela contro la costruzione del comando dei vigili del fuoco in prossimità delle mura timoleontee e della sua contrarietà all'ex governatore della Sicilia Raffaele Lombardo, quando propose di realizzare in città un museo dell'arte contemporanea. Il sindaco di Gela e Vittorio Sgarbi si sono ripromessi un nuovo incontro a breve termine per approfondire le strategie necessarie ad esportare l'immagine positiva di Gela nel mondo. La città è difficile che ha delle cose bellissime, un museo straordinario. Io pensavo che Lombardo voleva fare un museo d'arte contemporanea a Gela, fai un grande museo di archeologia che è la cosa che uno vuole vedere a Gela. Io tra l'altro sono un padrino di un momento importante della città perché quando Crocetti era solo consigliere comunale di opposizione mi chiamò, era un ragazzo umile, si capiva che era inadeguato anche fare consigliere comunale, però insomma con un certo entusiasmo mi chiese di difendere le mura megalitiche dalla possibile caserva dei vigili del fuoco. Io fece di tutto, non la fecero. Quella è una cosa importante, dopodiché ci sono venuti un'altra occasione. È una città che ha molto bisogno, quindi occorrerà immaginare che un sindaco faccia quelle 5 o 6 cose che restituiscono Gela alla sua dignità di grande città. Ed è importante nei musei soprattutto, nelle attività culturali ma a volte alla storia. È una città che stupisce il mondo per la quantità dei suoi reperti archeologici sempre di grande bellezza. Poi bisogna prendere 10 opere importanti e portarle a Milano in maniera tale che come si potrebbe fare a Lisboa che il nome di Gela entri tra i pali evidenti. E' un'ambasciatura del Vigilio, perché ero oggi prossimo. Anche l'avevo detto. Basta poche, però che facciano vedere, che merita e che uno vada a vederla. È una città difficile, quindi richiede l'impegno di un sindaco entusiasta e che non si faccia mettere nell'angolo o nel duvetto. La città di Gela non si distingue certo per decoro urbano e verde pubblico. Innumerevoli volte abbiamo denunciato stati di degrado e trascuratezza. Angoli o interi quartieri che ripuliti e piantumati adeguatamente cambierebbero decisamente il volto della città. Perché il decoro, la pulizia e l'immagine di un luogo sono fondamentali per una serena e civile convivenza dei cittadini, ma soprattutto per accogliere i visitatori. Ci chiediamo, dove finisce la responsabilità della pubblica amministrazione e comincia quella dei singoli cittadini? Siamo sicuri che Gela sia in grado di mantenere in ordine quello che è già stato ripulito e sistemato? Queste domande se le è poste un comune cittadino che va oltre. Dopo un'attenta osservazione del degrado in cui verse il verde pubblico, quasi una chimera, ha deciso di lanciare un appello ai concittadini e di chiedere di sposare il suo progetto semplice ma efficace, di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze spontaneamente per ripulire e riqualificare le zone che necessitano interventi di verde pubblico più urgenti. Cominciare cioè un passo alla volta a cambiare le cose, non stando seduti a criticare ma collaborando fattivamente. Abbiamo incontrato questo cittadino di buona volontà perché riteniamo che la notizia sia anche questa, forse una goccia nell'oceano ma chissà se è un movimento che nasce dal basso non possa avere sviluppi interessanti. Raffaele Di Gregorio, lei è un pensionato, un cittadino gelese per adozione perché è di origini ragusane ma si è innamorato di questa città perché ormai vive qui da tantissimi anni, ha lavorato qui, ha la famiglia qui e partendo dall'osservazione di questa città oggi vuole lanciare un appello ai nostri concittadini per realizzare qualcosa per il bene di questa città. Io voglio costituire un comitato di cittadini che la pensano come me, che sono disposti a svoltare pagina, a dare un'immagine di questa città degna di essere chiamata città e non l'etamaio perché è un l'etamaio sotto tutti gli aspetti. Quindi lei vorrebbe costituire un comitato di cittadini, un comitato spontaneo per volontariamente occupare le ore del vostro tempo libero per la pulizia e la ripiantumazione del verde pubblico. Sì, se osserviamo la città di Gela e vediamo bei balconi che sono costati migliaia di euro bellissimi ma che poi manca l'essenziale, cioè anche una pianta di geranio o di qualunque esso sia per dare intanto un'immagine diversa di questa città. Il verde, le piante sono benessere per il cittadino perché abbassano la produzione di anetride carbonica e producono ossigeno. Quello che respiriamo i cittadini, anche gli amministratori dovranno attenzionarci. Se qualche cittadino di buona volontà volesse sposare la sua causa la può contattare e così magari creare questo comitato? Posso dare il mio numero di telefono? 328 87 39 930. Ciò che mi auguro e credo che se lo debbano augurare tutti i gelesi e la città di Gela è che questo comitato si faccia perché ho avuto già tantissima adesione. E questo è l'obiettivo, è questo che ci prefiggiamo. E io dico ai gelesi veglia, diamo un'immagine diversa. Entro quest'anno, prima che finisce la primavera, di fare un concorso il miglior balcone fiorito. Un'accelerazione sulle autorizzazioni che dovrebbero consentire di dare il via libera ai primi cantieri della Queen Refinery a Gela, ma ci sono tanti dubbi a cominciare dal finanziamento dell'area di crisi complessa. E' quanto emerso ieri al termine dell'incontro che si è svolto al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma in merito alla vertenza a Gela. Il latavolo interministeriale ha messo uno accanto all'altro rappresentanti dello Stato, del Governo regionale, del Comune di Gela, sindacati ed eni. Domani intanto si riunirà la Commissione del Ministero dell'Ambiente per la non assoggettabilità della valutazione di impatto ambientale. Il progetto Guaiulla rimane in alto mare, secondo i sindacati, dato che sarebbero ancora in corso attività di ricerca ed eventuali campi da utilizzare per la coltivazione. Sono tre i cantieri di bonifica che dovrebbero partire a breve, su un totale di 11. Si accelera ma non si conclude? Si accelera per un momento di stasi che non portava sicuramente a nulla un'accelerazione, con tempi a 30-60 giorni di avvio di cantieri, già sono dei dati diversi. È chiaro che era normale che in un tavolo si debbano, che fra l'altro è un tavolo di verifiche e di controllo, proprio per la continuità, per l'attuazione del protocollo d'intesa. Noi stiamo cercando di allargare anche le prospettive. Questo è quello che stiamo cercando di fare, tra cui i sindacati, devo dire, che hanno sottolineato parecchio il discorso degli ammortizzatori sociali, perché se non c'è lavoro ci deve essere almeno un sostegno al reddito. Questo l'hanno sottolineato in modo chiaro, in modo forte, perché giustamente quando nel protocollo c'era scritto che veniva garantito un reddito nelle fasi transitori, ma questo di fatto sta avendo degli impedimenti ed è stato fatto risaltare. Io spero che partino il prima possibile i cantieri. L'Eni ha detto che a maggio partiranno già i primi, c'è qualcosa che partirà addirittura anche a marzo, però il problema è anche il numero di persone e di addetti che ci saranno occupati e il tipo di addetti che ci saranno occupati. I lavoratori che sono qui, oggi il Comune di Gela cosa dice? Quando andranno a lavorare? Perché aspettano notizie concrete, fatti immediati. No, ma il fatto immediato era difficile che si potesse avverare sin da subito. C'erano riuscire che possa partire qualche piccolo candiere già nelle prossime settimane, ma fatti immediati era sicuramente difficile, anche perché stiamo riuscendo a smuovere delle autorizzazioni che erano ferme da anni e svincolare tutta una serie di attività che negli ultimi mesi sono state praticamente ferme. e recuperare un anno e mezzo nel giro di tre, quattro, cinque mesi non è così semplice, perché è abbastanza complesso considerando che operiamo all'interno di un sito di interesse nazionale e che operiamo all'interno sempre di un polo industriale che è stato di fatto dismesso e spento. Quindi era meglio prevenire, adesso noi dobbiamo gestire quello che ci hanno lasciato, che sinceramente non è il massimo, è di difficile gestione. Il problema dei lavoratori è giusto che vengano, se non c'è la possibilità di lavorare, che ci siano gli ammortizzatori sociali. Su questo devo dire che anche i sindacati sono stati molto chiari e l'hanno ribadito. Infatti stanno prestando anche con il Ministero del Lavoro, oltre che a questo tavolo di verifica del protocollo d'intesa. Però è chiaro che i passaggi che sono stati fatti vanno per far attuare intanto questo protocollo, ma in realtà è sempre un palliativo, perché questo, come ben sappiamo, quando si va a concretizzare tutto il protocollo d'intesa sappiamo che non tutti potranno lavorare, né adesso, e il numero di addetti fra due anni sarà molto ridimensionato. Quindi la sfida maggiore è quella di costruire qualche alternativa che fino adesso non è stata fatta. Vice Presidente, è soddisfatto dell'incontro avuto oggi oppure si poteva ottenere di più? Oggi è stato un incontro che aveva un duplice obiettivo. Prima, segnare il ruolino di marcia, capire a che punto eravamo e se eravamo in ritardo un rispetto ad alcune questioni e poi fare chiarezza su altre, come quella sugli ammortizzatori sociali. Quindi abbiamo deciso due cose, che con il Ministero ci incontriamo subito dopo le festività pasquali per capire intanto l'avviso che è stata fatta e la chiamata ad aziende che vogliono insediarsi a Gela, che tipo di risposta c'è stata e dall'altro un tavolo invece regionale per discutere sulla proposta che il sindaco ha fatto sull'utilizzazione dei 32 milioni di euro che dovevano essere una sorta di misura compensativa per la città di Gela, spostarle invece su uno studio che deve poter guardare al porto di Gela. Premetto che anche la questione del porto non può essere vista in un rapporto quasi a due tra regione e comune. Credo che debba essere interessato l'assessorato alle infrastrutture come pure il Ministero delle Infrastrutture. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, le organizzazioni sindacali faranno arrivare all'assessore al lavoro una richiesta d'incontro proprio perché attorno a quel 5% bisogna definire regole e tempo. Ma i cantieri quando partiranno? Abbiamo una data precisa? Per quanto riguarda i cantieri l'appuntamento del subito dopo Pasqua riguarda questo. Sembra che a fronte dei 14 cantieri individuati per 3 ci sono tutte le autorizzazioni e per 6 ci saranno entro la fine del mese. Per cui sui 14 individuati 9 potrebbero essere pronti a partire immediatamente. Caro Papa Francesco, sono un ex lavoratore metalmeccanico dell'Indotto dell'ex raffineria Eni di Gela. Ho avuto il mandato da un centinaio di miei colleghi di pregarti affinché la tua divina e autorevole voce squarci il silenzio dovuto dall'egoismo di chi può e non fa e sulla disperazione di quasi un miliario di padri di famiglia che a causa di un processo di deindustrializzazione e di chiusura si trovano adesso in mezzo a una strada. Vane le lotte, le proteste, gli incontri, le manifestazioni cittadine, la disperazione è la nostra forza, ma è anche tanta la frustrazione quando si guardano i propri figli e le mogli non potendo sopperire alle necessità, anche quelle mediche volte. Questa è una terra abbandonata da tutti, ma dove la realtà maligna della mafia sui bisogni e sull'insicurezza economica di tante persone potrebbe alimentare il suo male. Aiutaci Santissimo Padre, aiutaci. Hanno consegnato una lettera a Papa Francesco esortandolo a pregare per loro, per gli operai che soffrono. Si rivolgono alla chiesa Marco Camarata, Emanuele Zappulla e Franco Biondo. Siamo stati dal Santo Padre, conosce bene la situazione, ma ora noi siamo arrivati qua al Ministero con la speranza che oggi si possa risolvere qualche cosa, ma ci credo, onestamente io parlo chiaro, ci credo poco. Venendo dal Vaticano, che il Papa parlava proprio della dottrina sociale, in quanto parlava dei vari ruoli, i ruoli attribuiti ai politici e a tutte le strutture sociali, che stanno veramente abusando adesso delle nostre questioni e questi poteri forti stanno cercando di sradicare la nostra identità degli operai. Il Santo Padre sa tutto, noi abbiamo consegnato due lettere, una scritta dell'Indotto in cui parla appunto della strage che è stata fatta a Gela e in più un'altra lettera riservata del parroco Don Giorgio Cilindrello della parroche di San Francesco, che parla anche del disastro di Gela. Ecco, qua noi ci aspettiamo che decideranno finalmente del futuro di Gela. Noi auguriamoci che qua faranno qualcosa, almeno per salvaguardare i posti di lavoro, perché il programma prevedeva che non si doveva perdere nessun posto di lavoro. Tanto è vero, la mazzata ultima è quella della smimme. Preside, nell'ottica di una scuola per tutti e di ciascuno si avviano progetti che riguardano proprio l'inclusione. Oggi è importante, si parla di soggetti che purtroppo vivono un disagio fisico evidente. Si tratta di soggetti con pluri minorazioni. E noi ci stiamo appoggiando e proprio chiedendo l'aiuto, l'assistenza e sfruttando, posso dire questa parola, sfruttando la professionalità e l'esperienza di chi in questo settore opera e quindi ci stiamo appoggiando alla Lega del Filodoro. Oggi alla Romagnoli è presente la componente regionale della Lega del Filodoro, una Lega di carattere nazionale, una Lega che da 50 anni si impegna per favorire il miglioramento della qualità della vita per tutte le persone che hanno minorazioni plurime. Vivete il dramma di un bambino che purtroppo non vede e non sente. Come è cambiata la vostra vita quando avete incontrato gli angeli del Filodoro? È cambiata perché innanzitutto abbiamo potuto trovare un sostegno, un sostegno morale, perché per una famiglia che si trova a vivere una situazione del genere, accettare, prima di tutto capire che cosa deve affrontare e poi accettare queste conseguenze non è una cosa facile. Quindi la Lega del Filodoro ci ha aiutato a comprendere ciò che aveva nostro figlio e quindi anche ad affrontare le problematiche che avremmo dovuto affrontare nel corso degli anni. E in questo ci ha aiutato perché tutte le figure che sono lì competenti danno sostegno e danno anche le istruzioni adatte per poter affrontare la situazione. La Lega del Filodoro si occupa certamente di situazioni non facili da affrontare. Il primo ostacolo probabilmente è quello di rendere consapevoli le famiglie e di far accettare un problema grave che sconvolge un nucleo familiare. Sì, effettivamente la Lega del Filodoro, nata più di 50 anni fa a Dosimo in provincia di Ancona, lavora proprio su questo, nel senso che noi abbiamo come missione il fatto di rendere una vita migliore a questi ragazzi, ragazzi che non vedono, non sentono e che hanno anche delle pluriminorazioni. Sicuramente uno degli elementi con i quali noi lavoriamo è la famiglia, è il primo punto di riferimento per i ragazzi che spesso non sanno dove e come comportarsi con questo tipo di disabilità. Su un bambino che non vede e non sente, si lavora sugli altri sensi, sul tatto, sull'odore? Sicuramente, sicuramente, infatti l'obiettivo che noi ci prefissiamo è partire, ecco forse non so, è la nostra filosofia, partire da quello che i ragazzi hanno piuttosto da quello che manca. Una ordinanza contro la pubblicità cartacea selvaggia è stata firmata dalla sindaco di Gera, Domenico Messinese, vietati volantinaggi da fissioni che deturpano il decoro urbano. Debliant ed altro materiale informativo o promozionale potranno essere distribuiti solo nelle cassette della posta o consegnati direttamente a mano nelle abitazioni private, nei locali pubblici o nelle attività commerciali e quanto stabilisce, come dicevamo, l'ordinanza contro la pubblicità cartacea selvaggia firmata dal primo cittadino gianese. Il volantinaggio non sarà messo ancora meno tra gli automobilisti in prossimità ed in corrispondenza degli incroci. L'ordinanza, infatti, oltre alla tutela del decoro, è finalizzata anche al mantenimento della sicurezza urbana. Per quanto riguarda, invece, le affissioni, saranno sanzionati i manifesti apposti sui pari dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale su alberi e altri posti o strutture non autorizzate. Le multe saranno elevate sia alle aziende commissionarie che al personale impiegato per la pubblicità. Per le prime sono previste sanzioni da un minimo di 100 euro ad un massimo di 600 euro, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello Stato e dei luoghi, mentre chi distribuisce volantini andrà incontro a multe dalle 10 alle 60 euro. Grazie per la visione!